Buonasera a tutti, scusate il ritardo e scusateci anche se stiamo davvero facendo del nostro meglio in queste ore, raggiungendo ad oggi complessivamente un finanziamento di oltre un miliardo e mezzo di euro. Piano piano pare che si stia uscendo dalla crisi Covid, dall'altro lato ovviamente si tiene aperta l'ipotesi che le pandemie non possano ripresentarsi. Grazie a tutti.